Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. Si parla della seconda parte della fase 2 sui giornali di oggi, di questa ripartenza per molte attività commerciali, ma non per tutte, come vedremo poi nel dettaglio sui giornali. Una ripartenza che è stata naturalmente caratterizzata dalle nuove misure, dai provvedimenti che sono stati presi e dunque appunto si fa un po' un bilancio della situazione. Ma si parla anche naturalmente dei dati, dati che continuano ad essere confortanti con l'attenzione naturalmente a quella che sarà l'evoluzione dell'epidemia nelle prossime due settimane per capire in che direzione stiamo andando e si ricorda soprattutto dal Ministero della Salute l'attenzione molto alta e pronti a richiudere nel caso in cui le cose non dovessero andare bene in alcune zone. Ma ci sono anche delle notizie che arrivano dall'Europa, in particolare da quegli strumenti che sono allo studio per affrontare l'emergenza economica che è stata causata dal coronavirus. In particolare c'è una proposta franco-tedesca sui recovery fund, soprattutto la cosa importante e la caratteristica è che si tratta di soldi a fondo perduto, quindi che non dovrebbero essere restituiti. Una proposta che poi appunto verrà vagliata soprattutto dalla Presidente von der Leyen che l'ha già comunque giudicata in maniera positiva. La von der Leyen dovrà presentare, diciamo così, il suo piano sui recovery fund il 27 di maggio ma c'è già il no di alcuni paesi europei. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Ecco qua il titolo principale. L'Italia riapre ma non tutta, come dicevamo. Ripartono sette attività su dieci, traffico nelle città, buoni dati, calano le vittime e i malati da Milano al Sud, chiusi i negozi di molte griff di Maio, pronti ad accogliere i turisti, no alla blacklist. C'è stato ieri un incontro con 11 ministri europei per fare un po' il punto della situazione proprio sulla questione del turismo. Vedete qui queste fotografie che ci raccontano un po' quello che è successo a Milano e a Venezia, come sono andate le cose. Poi eccolo qua, l'intesa Macron-Merkel, Palazzo Chigi dice un buon punto di partenza ma c'è già il no dell'Austria, fondo europeo da 500 miliardi. Oggi troviamo sul Corriere della Sera e anche su altri quotidiani per la verità un'intervista con la presidente della BCE Christine Lagarde che dice che il patto di stabilità va rivisto, la corte tedesca, e non ci fermerà. E poi di spalla l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità il virus in Cina per 122 paesi, il sì ad un'inchiesta. E poi c'è un'intervista anche al governatore Zaia oggi sul Corriere della Sera. Le regioni hanno fatto meglio di Roma. Apertura della Repubblica, eccola qui. Patto Merkel-Macron, un aiuto per l'Italia, Germania e Francia. Lanciano un piano da 500 miliardi, 100 possono andare a Roma e conta che dice un buon inizio. Oggi c'è un'intervista sulla Repubblica al ministro dell'Interno Lamorgese che dice commercianti denunciate le offerte dei mafiosi. I primi risultati positivi del vaccino negli Stati Uniti, la grande corsa a tornare nelle strade. Gli scienziati dicono attenti ai rischi. E vedete questa fotografia, infatti ci dimostra che bisogna fare ancora molta attenzione. Andiamo a vedere anche l'apertura della stampa. Eccola qui, Unione Europea scommessa da 500 miliardi. Patto Merkel-Macron, Amendola è il primo passo. Patuanelli ci sono interviste oggi sulla stampa. Il paese non vive di soli sussidi, recovery fund, meno risorse ma a fondo perduto. No dei paesi del nord e Conte all'Italia toccano 100 miliardi. Un caffè al bar, il taglio dei capelli, Italia incerta nel primo giorno di libertà. E anche qui appunto c'è il racconto di com'è andata. Sole 24 ore del quotidiano economico, negozi riaperti con sconti fino al 70%. Dopo 70 giorni di stop, avvio a rilento per il commercio. Maxi ribassi per la moda, chiusi il 30% di ristoranti e bar. Lo smart working ruba clienti potenziali. Zaia che riapre il Veneto. C'è un'intesa con il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia e Trento. Per la possibilità che i congiunti possano appunto vedersi nell'ambito di queste regioni e di questi territori, dati ok sui contagi e sui decessi. Liquidità, le piccole e medie imprese, una questione spinosa. I fondi non bastano, mancano 4 miliardi. L'arta rischiosità dei finanziamenti richiede accantonamenti superiori. E ancora si parla naturalmente anche qui del piano di rilancio Merkel-Macron. 500 miliardi dall'Unione Europea non prestiti. La proposta franco-tedesca prevede l'emissione di un bond comune. Conte è il primo passo importante, ora bisogna ampliare il fondo dell'Unione Europea. Oggi c'è un'intervista sul Sole 24 Ore a Gianni De Gennaro. Prevenzione dei reati in azienda come quando ero poliziotto. Andiamo a vedere anche l'apertura del Fatto Quotidiano. Eccola qui. Il ricatto di FCA. Terremota partiti e giornali. Renzi contro Orrando e Proel Can sui 6 miliardi garantiti dallo Stato. Calenda che gli dice 6 app e coronato. E ancora Movimento 5 Stelle di Maio non si ricandida. Taverna o Appendino leader e patto fra tutti i big. I piani dell'ex capo politico per il futuro dei 5 Stelle. Bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio con la Rassegna Stampa. Allora, intanto finiamo di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Vediamo un attimo anche il messaggero. Eccola qui. L'Italia riparte a ostacoli di apertura al via. Il 40% delle attività restano chiuse. L'appello con queste regole non ce la facciamo. Il piano nuove zone rosse. Se risalirà il contagio nelle ultime 24 ore 99 morti. E' il dato più basso. E ancora, vedete l'ansia di Roma a ricostruire subito capitale sospesa tra timori e speranze. E nei negozi regna il metro. Poi si parla dell'accordo sui recovery fund da 500 miliardi. Patto Merkel-Macron svolta sugli aiuti. Conte prenota 100 miliardi. Ancora, in taglio basso, sempre del messaggero. Parla il geriatra Bernabè. Dice difficile far rispettare le distanze. Queste test superato, attenzione però ai bambini. E poi ancora c'è una mossa italiana anti-isolamento in vista dell'estate. Un report si sta studiando sui territori più sicuri per attrarre turismo dall'Unione Europea. Notizie del vaccino che arrivano invece dagli Stati Uniti. Sta funzionando. I pazienti che hanno fatto il test sviluppano anticorpi. E poi 100 paesi che chiedono l'indagine sulla Cina per quanto riguarda l'origine del virus. Il foglio, eccolo qui, vi segnalo a firma di Claudio Cerasa. È ora di attrarre e non di spaventare il caso FCA. Antimprese, il nuovo stato etico. Un paese con la testa sulle spalle. Non dovrebbe chiedersi come puniamo le multinazionali. Ma come facciamo a farle sentire di più a casa. Un modo per farlo è confrontare questi due numeri. 1.200 giorni contro 514. Andiamo a vedere anche l'apertura del giornale. Eccola qui, la fase 2 inizia male. Non salvano i negozi e uccidono le scuole private. L'Italia riparte, ma tanti protestano. Così non ce la facciamo. Oggi si vota sui fondi all'istruzione. Rischio chiusure a tappeto. Merkel e Macron hanno deciso. 500 miliardi di prestiti. Ancora l'apertura di Libero. Eccolo qui. Il paese ha lo sbando. Governo senza bussola. Il decreto rilancio ancora non c'è. Quello sulle riaperture. Delega ogni scelta. Le regioni, l'Italia, non ha una guida. Ma il premier si imbullona. La poltrona. Saranno mesi complessi. Ancora vediamo l'apertura. Eccola qui del tempo. Mafia capitale. Riciclaggio. Sequestrati. 8 locali a Roma. 3 erano stati comprati durante il lockdown. Col governo assente. Gli usurai scatenati. Sempre più negozianti. Sono costretti a svendere. Apertura della verità. Eccola qui. I soldi ai lavoratori non arrivano. I Benetton e agli agnelli. Invece sì. Ripartenza frenata. Schiedati al ristorante. Il giallo degli elenchi dei clienti da conservare. Molti commercianti non riaprono. Dicono. Non c'è margine. Avvenire. L'Italia a sé ridesta. Ripartenza nel giorno del crollo. dei contagi e delle vittime. E poi appunto si parla anche del piano presentato da Parigi e da Berlino per questi aiuti a fondo perduto. Andiamo a vedere qualche quotidiano locale. In particolare Brescia. Brescia riparte. Il virus si arretra nel primo giorno delle riaperture. Nuovi contagi scendono a livelli preemergenza. Soltanto 11. Non accadeva dall'inizio di marzo. L'osservatorio zero casi in Lombardia. Ad agosto questa naturalmente è una previsione. La Gazzetta di Parma. Parma riparte. Troppi indisciplinati. Il sindaco pronto a richiudere. Primo giorno d'apertura per bar, ristoranti, negozi e parrucchiere. Al mattino tutto ok. In serata. Assembramenti in centro. Pizzarotti furioso. Non è una gara a chi è più stupido. Ancora vediamo anche il piccolo. La fila per un caffè nei negozi. Trieste rinasce con la mascherina. E poi ancora. E poi appunto questo era l'ultimo quotidiano. L'ultima prima pagina che volevo farvi vedere. Allora diamo un'occhiata alle pagine interne dei quotidiani. Vediamo se riusciamo ad avere. Eccolo qua. Partiamo dal Corriere della Sera. Allora passeggiate in centro e file dai barbieri. Ma aprono soltanto 7 su 10. Da Milano a Napoli. Fiducia e cautela per le strade. La crisi dei ristoranti. Sono molti a restare chiusi. Le scritte sulle saracinesche. Attendiamo gli aiuti. E ci sono poi gli scienziati che si dividono sulla questione delle riaperture. I duri. No a liberi tutti. Poi prevare la mediazione. La spaccatura. Prima del via degli esperti. C'è stata una mediazione lunga e complicata. Ci racconta il Corriere della Sera. All'interno del Comitato Tecnico Scientifico. Prima di concedere via libera le riaperture. Perché numerosi componenti hanno voluto esprimere preoccupazione forte. Rispetto a quella linea dei liberi tutti. Espressa da molti governatori. Ma si sono trovati a discutere. Con quei medici specializzati nella cura di anziani e dei bambini. Preoccupati invece con ulteriore chiusura. Potesse avere danni ben più gravi. Sull'equilibrio delle persone. Dunque poi alla fine i più intransigenti. Hanno dovuto trovare una mediazione durissima. Invece è stata la posizione dei tecnici. Ina e lintesta. Che avevano predisposto misure di distanziamento più ampie. Nella convinzione che questo avrebbe consentito. Di assorbire eventuali violazioni. Soprattutto per quanto riguarda la vita sociale. Il ragionamento è fin troppo semplice. Se impongo due metri. Anche chi non rispetta la norma. Difficilmente si avvicinerà troppo. Se invece la misura si riduce. E' più difficile far rispettare. Misura che poi sappiamo è stata ridotta. Ad un metro. E tra gli esperti. Appunto c'è questa intervista. Che troviamo oggi sul Correre della Sera. A Bernabei. Che dice. Era necessario uscire. Anche l'isolamento uccide. Ma restiamo prudenti. Quello che accarderà nei prossimi giorni. Lo potremo vedere. All'inizio di giugno. Andiamo a vedere anche. Ecco qua. Quest'intervista che troviamo a Luca Zaia. Sul Corriere della Sera. Regioni fondamentali. Ci sono stati i pasticci. Dice Zaia. E li hanno fatti da Roma. Non oso pensare. Che cosa sarebbe stata questa epidemia. se fosse stato tutto gestito dal governo. Dice Zaia. E che in questa intervista appunto dice. Credo che la vicenda Covid abbia dimostrato fino in fondo l'importanza dell'autonomia. Lei pensi che cosa appunto sarebbe stata questa epidemia. se tutto fosse stato gestito da Roma. E qualcuno dice che la sanità va riaccentrata. Chi lo dice non ha capito nulla. Dovrebbe ricominciare a fare il consigliere comunale. Io lo renderei obbligatorio. Sono mancate le indicazioni basilari. Abbiamo sentito che le mascherine ai non malati non servivano. Abbiamo sentite tante. Qui tutto è accaduto su scelte nostre. a partire dalla chiusura di Voioganeo e dai tamponi che abbiamo fatto subito alla popolazione di quel comune per poi allargare a cerchio. Mi dicevano che sprecavo soldi. A proposito dei tamponi. Noi li abbiamo fatti con il sistema Veneto. Ma non è che qualcuno si fosse dotato di magazzini di tamponi. Di fronte a queste immane tragedia. E io non ho aperto polemiche con il governo. Di certo se si diffondesse la notizia di un nuovo virus. Io manderei là il meglio della sanità veneta per studiare il fenomeno. Così Luca Zaia che trovate in questa intervista al Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera e su altri quotidiani oggi troviamo anche un'intervista a Christine Lagarde la presidente della BCE che parla del patto di stabilità. Dice va rivisto prima che torni in vigore. E poi sottolinea continueremo gli acquisti senza battere ciglio. Non c'è alcuna remola psicologica. La nostra azione useremo la flessibilità necessaria. Per quanto riguarda la proposta franco tedesca. Ne parla in maniera esplicita in questa intervista. Dice le proposte sono ambiziose, mirate e benvenute. Dice aprono la strada un'emissione di debito a lungo termine effettuata dalla Commissione Europea. Soprattutto permettono di attribuire aiuti diretti importanti a favore degli stati più colpiti dalla crisi. Ciò dimostra lo spirito di solidarietà e di responsabilità. A cui ha fatto riferimento la cancelliera la settimana scorsa. Non può esserci un rafforzamento della solidarietà finanziaria senza un maggior coordinamento delle decisioni a livello europeo. E poi c'è uno schema che riguarda appunto gli strumenti a disposizione allo studio. Il nuovo MES, 240 miliardi per le spese sanitarie. Il fondo SUER, il meccanismo antidisoccupazione con 100 miliardi. E poi in arrivo anche i prestiti della Banca Europea degli investimenti per le imprese nella somma di circa 200 miliardi. Parlavamo delle riaperture. Riaperture appunto che però non hanno riguardato naturalmente tutti. Le proteste da Milano a Napoli senza aiuti non resisteremo. In piazza anche i presepiai a San Gregorio Armeno. Noi tutelati dall'UNESCO salvino almeno la stagione a Roma va in scena la serrata dei baristi e dei negozianti. Dunque c'è comunque grande preoccupazione per quanto riguarda appunto la situazione dei commercianti. Sempre dal Corriere della Sera andiamo un attimo all'estero. Ci racconta del Regno Unito sempre più isolato e quarantena per chi viene dall'estero. E poi c'è appunto la questione del turismo. All'istenere tra i paesi dell'Unione Europea di Maio preme. Berlino avverte restrizioni dove risalgono i casi. C'è anche lo scontro però sul quale è alta l'attenzione. Organizzazione Mondiale della Sanità, 122 paesi asi, inchiesta sul virus. Il leader solo alla fine. C'è stata appunto questa richiesta per quanto riguarda questa indagine sull'origine dell'epidemia. Parla l'epidemiologo di Pechino e di Chauhan. Non ci dissero la verità. Dunque ancora tanti aspetti da chiarire. Andiamo a vedere anche la Repubblica. Eccola qui, dal quale appunto vi segnalo il bazooka Merkel-Macron. Aiuti per 500 miliardi, 100 destinati all'Italia. L'accordo su bond della Commissione non saranno prestiti. E c'è appunto il no dei paesi del nord. Ma dalla Repubblica voglio segnalarvi questa intervista al ministro dell'Interno, la Morgese, che dice rischio mafio, lo Stato aiuterà le imprese. Cambiamo i decreti. Gli imprenditori, dice la Morgese in questa intervista, segnalino alle forze di polizia proposte di aiuto da sconosciuti o con modalità opache. Controllo dei flussi migratori. Impegno è stato rafforzato. I primi 100 miliardi militari alla frontiera dell'Est. Dunque fa il punto della situazione su vari aspetti. Le viene chiesto in particolare nello specifico i temuti problemi di ordine pubblico. Non si sono verificati. Gli strumenti sono stati adeguati. Le prime avvisaglie lo Stato ha saputo muoversi con celerità e andare incontro alla necessità delle famiglie che hanno perso improvvisamente dall'oggi al domani appunto il reddito. Ora dobbiamo evitare che la paura c'è del passo alla rabbia. Molte categorie economiche, commerciali e professionali dovranno affrontare mesi difficili. Per scongiurare licenziamenti, chiusure e fallimenti dobbiamo evitare che le procedure rallentino i tempi di erogazione degli aiuti pubblici. Ma non possiamo rinunciare ai controlli e dobbiamo saper coniugare la velocità della ripresa con la legalità. Dunque un aspetto fondamentale. Oggi sulla Repubblica c'è anche un'intervista al Ministro Boccia sulla situazione appunto delle riaperture e sulla gestione da parte delle regioni. Ora niente errori, dice Boccia. Da qui in avanti richiudono soltanto le regioni che hanno problemi. È il momento più difficile, dice delicato. Ogni Presidente deve sapere che i comportamenti sbagliati rischiano di rimandare l'Italia. Sotto chiave poi sull'app Immuni dice sarà pronta a fine maggio e cancellerà molte polemiche a partire da quella sulla privacy. La tracciabilità si fa già ma a mano, così appunto il Ministro Boccia. E poi ancora volevo farvi vedere sempre dalla Repubblica. Eccolo qui, gli scienziati delusi, noi messi all'angolo, dicono non serviamo più. Bene, noi ci fermiamo con la rassegna stampa. Adesso è il momento di Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo. Sì, buongiorno. Questa è la situazione delle piogge previste per la prima parte della giornata di oggi. Come vedete la zona di maltempo centrata fra Corsica e Sardegna, perché lì c'è il centro della bassa pressione, quindi un po' la fabbrica del maltempo, si estende con le piogge a parte del nord con fenomeni moderati o localmente intensi, il giallo. Le zone di nord-ovest, vedete, un po' meno, così come il sud che ha molte nuvole ma poche piogge. Vediamo nella seconda parte della giornata di oggi lo sviluppo e tornano dei fenomeni anche localmente intensi al nord, quindi questa instabilità si fa sentire. Ancora la zona, diciamo, centrale della bassa pressione e poi le regioni centrali con fenomeni localmente intensi, specie sulle zone dell'Appennino e qualche pioggia che a questo punto arriva anche al sud. Vediamo la giornata successiva in cui abbiamo, e qui abbiamo la tendenza al miglioramento dovuta a cosa? Al fatto che, vedete, il tutto si sposta verso sud-est, al nord migliora, migliora in Sardegna, anche in Sicilia, ma il centro-sud hanno fenomeni localmente intensi, quindi il maltempo è esteso e localmente intenso. Questo nella giornata di giovedì si risolve, non proprio nella forza nella mattinata, ma a fine giornata resteranno piogge deboli al nord e piogge deboli o localmente moderate al sud, ma il tutto si sarà allontanato. Le minime di questa mattina si sono in qualche caso ridimensionate, troviamo i colori del giallo che corrispondono a valori intorno ai 12 gradi, che sarebbero un po' più normali, però in qualche caso al nord restano abbastanza sopra la media. Vediamo anche lo stato dei mari, relativamente calmo, direi a questo punto soltanto lo Ionio, l'Adriatico, scusate, e il Golfo di Taranto, gli altri mossi o localmente molto mossi. ha agitato parte del Mar Ligure e del mare di Corsica, lì i venti sono settentrionali e anche piuttosto forti. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale. A più tardi.